Si chiama Joshua Cooper, è stato fermato a Bensalem, ci troviamo nella Pennsylvania, negli Stati Uniti d'America perché questo giovane sedicenne avrebbe fatto fuori una ragazzina di soli 13 anni, ha confessato tutto all'amica attraverso una videochiamata che c'è stata di recente. C'è stata la visione da parte di questa giovane ragazza, di questa giovane fanciulla del cadavere proprio nel video e quindi lei stessa ha deciso di mettere in allerta tutte le autorità. Il giovane chiedeva aiuto, voleva occultare e nascondere il colpo privo di vita della ragazzina ma è rimasta sotto shock che l'ha visto, ha arrestato i soccorsi o meglio la sicurezza, il personale di sicurezza e ovviamente la ragazzina è stata ovviamente arrestata. In una situazione devastante come quella che si è verificata, ovviamente il ragazzo non se la sta passando bene, anche perché in America è vero che c'è una giustizia che va rispettata ma non so se si fa senza passare la sua vita bene o in un centro di persone di minorità. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di studenti di Youtube. Iscrivetevi, commentate. Ciao a tutti da Leandro, a prossimo video.